Onestamente è stata una manifestazione che ha avuto moltissimo riscontro nella popolazione che veniva da fuori. Si calcola che sono state le presenze da 30.000 a 35.000. Questo sta a significare che una piccola cittadina di 1.800 abitanti è qualcosa di unico ed eccezionale. Io, come ho sempre detto, ringrazio tutta la mia cittadinanza per l'impegno che ha messo per la realizzazione di questa festa in onore alla Madonna Tagliavia che è unica nel suo genere e che è stata, se non l'unica, sicuramente la più seguita e dove abbiamo avuto le più presenze per quanto riguarda questa festa. È unica nel suo genere. Chi la conosce sa che effettivamente è qualcosa di bello da vedere. Diciamo che l'obiettivo principale da parte mia e da parte dell'amministrazione è quello di renderla, questa festa, su più giorni perché la festa in sé dura un giorno, mentre la preparazione di questa festa è un mese dove si nota tutta la collaborazione e la presenza della cittadinanza ma pure dei paesi limitrofi che vengono ad aiutare perché un mese di preparazione, non le nascondo, è molto impegnativo. Grazie 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 Grazie